FIAT 500L La direzione Rivarolo, per causa ancora da accertare, si è scontrata con una Fiat Idea che proveniva dal senso opposto. Entrambe sono finite giù dalla piccola scarpata sul prato che costeggia la carreggiata, a diversi metri di distanza l'una dall'altra. La 500 si è ribaltata più volte prima di fermare la soccorsa. Sul posto sono prontamente intervenute due ambulanze del 118 e carabinieri della Radiomobile di Brea. I due conducenti, dopo le prime medicazioni, sono stati trasportati al pronto soccorso. Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Grazie a tutti.